Un po' snobbato dai paladini degli studi umanistici, lasciato in secondo piano dei genitori che preferivano indirizzare i figli verso i licei, l'istituto tecnico si prende oggi tutta la sua rivincita. Secondo le prime indiscrezioni sulle scelte della scuola superiore fatte dagli studenti, l'istituto tecnico sarebbe preferito dal 30% dei 13 anni italiani, surclassando i licei. I dati non sono ancora ufficiali, le iscrizioni si sono chiuse solo dieci giorni fa online, ma dai primi dati solo uno studente su quattro si iscrive allo scientifico, mentre il liceo classico subisce un calo di preferenza al 5,5%, in caduta libera negli ultimi anni, solo otto anni fa veniva scelto dall'8% dei teenagers. L'istituto tecnico è la tipologia di scuola che più patisce la politica del contenimento delle spese. Il prestigio di un istituto si basa sulla qualità dei laboratori, sulla tecnologia osata, che deve essere al passo con i tempi. Così tutti i dirigenti scolastici si muovono tra fondi ordinari, contributi delle famiglie e sponsor. Molti vantano persino crediti con lo Stato da anni, su cui ormai non contano più. Parola chiave nella gestione delle risorse è parsimonia. C'è però chi, tra le sabbie mobili del risparmio forzato, trova il modo di eccellere, come l'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei di Roma. Tre studenti tra i 17 e i 19 anni a luglio scorso in Brasile hanno vinto il campionato mondiale di robotica dopo aver lavorato per tre anni ad un progetto hardware e software, una partita di calcio tra robot. Lorenzo Di Donato faceva parte della squadra. Il robot ha 16 sensori infrarossi tutti intorno che ricevono la palla, quindi il robot sa a quale distanza la palla e a quale grado ha la palla, perché è anche una bussola che gli dice come è girato, come sta messo rispetto alla palla. Quindi grazie a questo riesce a capire dove è la porta avversaria, dove è la sua porta e riesce a intercettare la palla, andare ad attaccarla e portarla in porta. Questo è l'attaccante. Invece il portiere più o meno fa la stessa cosa, però non attacca mai verso porta. Lui rimane in difensiva. In gara c'erano 30 squadre provenienti da altrettante nazioni. Le più temute la giapponese, la coreana, la cinese e la portoghese. La finale è stata al cardiopalmo. Aveva vinto la squadra cinese, ma al momento della premiazione è stata squalificata perché la giuria si accorta che aveva copiato il software e gli italiani si sono ritrovati sul podio, primi nel mondo, in robotica. Noi abbiamo puntato su alcuni settori d'avanguardia, oltre alla didattica ordinaria, capendo anche le prospettive, non solo in termini occupazionali, ma anche in termini sociali. La robotica, come la domotica, l'elettronica, l'elettrotecnica, possono essere uno sbocco interessante, ma possono essere anche un supporto importante per i bisogni sociali. Uno per l'assistenza a persone disagiate, anche agli anziani, all'interno della casa, per la vita quotidiana. E poi anche in campo chirurgico per l'applicazione degli arti artificiali. Il Galileo Galilei, l'istituto tecnico più antico d'Italia, inaugurato nel 1918, il primo presidente del Consiglio di Amministrazione è stato Guglielmo Marconi. La scuola, durante la Seconda Guerra Mondiale, ospitava un'officina bellica. Qui si costruivano in fonderia motori ad ellica. Benito Mussolini in persona è venuto a controllare la produzione. Oggi ci sono 41 laboratori, alcuni storici, come quello di costruzione aeronavale, dove oggi ci sono due aerei, modelli per gli studenti da riprodurre. La scuola si trova al centro di un quartiere multietnico della capitale. Anche questo, per il preside, un patrimonio culturale da valorizzare. Il pomeriggio ospita 200 studenti cinesi che studiano lingua e letteratura cinese. Dieci di loro sono stati premiati a Pechino come i miglior studenti del paese.